Buonasera a tutti, sono Takahiro Yoshikawa per l'occasione della conferenza Neuroscienze e Musica, ora eseguirò musiche di Debussy. Suono le stamp e due libri di image. Ovviamente questo concerto doveva essere con il pubblico, ma in questo modo online potrebbe essere anche più intimo. Spero che vi piaccia. Buon ascolto. Buonasera a tutti. 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 Buonasera a tutti.